E' stata presentata venerdì 22 luglio presso il Museo Civico d'Arte di Pordenone l'iniziativa Opere da Toccare. Il progetto è finalizzato a rendere accessibili e fruibili alcuni manufatti d'arte del museo da parte di persone non vedenti e ipovedenti, mediante la realizzazione di copie eseguite a rilievo. Le opere in questione sono dotate di didascalia in carattere braille e di un testo riscritto specificamente per consentire la conoscenza dell'opera anche a chi non può adoperare la vista. Il direttore del Museo Civico di Pordenone, Angelo Crosato. Il progetto consiste in questo, nella realizzazione a rilievo di alcune opere a due dimensioni, come sono i quadri per lo più, in maniera tale che il non vedente possa toccare queste riproduzioni e seguirne l'andamento sentendo il rilievo per esempio di un volto, rilievo di una veste eccetera. Adesso lo valuteremo anche assieme al pubblico direttamente interessato per vedere di poter portare degli accorgimenti, eventualmente delle migliorie proprio per un accostamento a quello che è l'opera d'arte. Le riproduzioni in rilievo eseguite dallo scultore Mario Pessotto sono tratte da opere presenti nel museo e saranno esposte accanto agli originali. L'assessore alla cultura del comune di Pordenone, Claudio Catterruzza. Questa mostra, opere da toccare, organizzata dal comune di Pordenone e dal Rotary Club del Friuli Venezia Giulia, in particolare da quello dell'Alto Olivenza, rappresenta un po' un appuntamento importante dedicato alle persone non vedenti o ipovedenti. Quindi è stata un'operazione che è stata fortemente voluta dal comune di Pordenone per dimostrare la sensibilità anche nei confronti di persone meno fortunate per permettere a tutti coloro, anche quelli come in questo caso, che non possono fruire della bellezza delle opere di essere in grado di leggere effettivamente delle straordinarie opere d'arte che sono contenute nel nostro museo.